Non c'è pace in città sulla scelta della sede dove sarà costruito il nuovo ospedale di Teramo. Il luogo, individuato dall'Asla di Teramo, sito in località Piano Daccio, non ha mai convinto la maggior parte dei comitati di quartiere Teramani, che ha da sempre appoggiato l'idea di ricostruire il nosocomio sull'area del vecchio Mazzini a Villa Mosca. Il direttore generale dell'Asla, Maurizio Di Giosia, ha appena annunciato che è sua intenzione incontrare il comitato Pro Mazzini, ma anche tutti i cittadini per illustrare e condividere ogni scelta sul futuro ospedale con l'intera popolazione. Insomma, un dialogo costruttivo ed informativo per il bene comune. Intanto i promazziniani chiedono all'Asla e al Comune di verificare la reale fattibilità urbanistica del nuovo nosocomio nell'area di Piano Daccio. Il documento, redatto dal comitato, sostiene l'esistenza di importanti contraddizioni nella scelta del sito. La più importante è che nella delibera del Comune di Teramo del 2017 venivano indicate quattro aree dove realizzare il nuovo ospedale. Quello studio urbanistico di valutazione e comparazione non è stato ancora mai prodotto. E nonostante non ci fosse una risposta da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'Asla di Teramo, sempre secondo la nota del Comitato Promazzini, avrebbe affidato incarichi professionali per lo studio di fattibilità solo sull'area di Piano Daccio e non uno studio comparato tra le diverse aree. Il manager dell'Asla di Giosia non si sottrae al confronto, anzi ha intenzione di spiegare pubblicamente ai cittadini la bontà delle scelte sul futuro ospedale, perché offrire la possibilità ai teramani di curarsi bene è la priorità dell'azienda sanitaria. Grazie a tutti.